Per noi comunque è sempre bello andare in posti molto belli. Questa sera sapevamo che affrontavamo una squadra importante, costruita per vincere. E quindi diciamo che siamo scesi in campo per fare bene, quella è la prima cosa. Davanti avevamo una squadra importante, gente d'esperienza, ragazzi giovani molto bravi. Sapevamo che giocavano bene e già da dietro loro l'hanno impostata bene la gara. Noi siamo scesi per fare la nostra partita, il mister ci ha dato gli input giusti. Purtroppo la differenza si vede e quindi è giusto dirla. Però noi stiamo lavorando e speriamo di toglierci qualche soddisfazione quest'anno. Raccontaci il gol, le emozioni di questo gol contro un grande avversario come era la sera. No, è bellissimo perché comunque fare gol qui è sempre bello. Però io interessa comunque, ho voglia di migliorarmi e guardo avanti. Sono contento del gol però voglio andare avanti, voglio migliorarmi sempre di più. E quindi spero arrivano ancora gol molto più belli di questi. Spero di migliorarti sempre di più con la casacca Giallo Play o dal mercato dobbiamo attenderci qualche novità? No, io a Castellammare sto benissimo. Quella è la prima cosa. Però per adesso io sono professionista, quindi per adesso sono nelle stabbia. E quindi ne ammazzo per la maglia, per i tifosi che mi sono venuti stasera. che veramente c'è da fargli un applauso perché sono dei grandi. E quindi mi metto a disposizione della società e del mister. E quindi questo, scendo in campo e do il mio meglio. E poi sono cose che si vedranno più avanti.